Le persone sono all'esterno, sono all'esterno le persone, qui ci sono solo i bambini e ci sono due adulti e le persone sono qui all'esterno, qui ci sono tre brave signore che stanno facendo le telefonate di lavoro e poi qui ci sono altre persone che stanno facendo qua anche loro le telefonate, c'è Luz, la nostra Luzina Luz significa luce assieme a queste brave personcine là e poi ci sono tre persone che sono lì che parlano tra di loro, Dio vede e provvede, qui sono poche persone e là ci sono delle persone ecco qui gli orari, gli orari di quello che facciamo e grazie a Dio